Sì, questo è tryhard, che è tornato a prendersi le armi, tra l'altro, perché era morto lì Elicottero? 3, 2, 1, Gorenko A terra Non è vero! L'ho visto cadere dall'elicottero Sono due, al primo colpo, eh sì, manca il... Il guidato L'ho visto cadere dall'elicottero, povero Che cucciolo Allora, non può essere possibile